Il Comune dell'Aquila e la Provincia hanno firmato questa mattina a Palazzo Margherita l'accordo per la realizzazione della variante al PRG per la ricostruzione della nuova scuola di infanzia e primaria di Pianola, con rotatoria di accesso al plesso scolastico che si farà nell'intersezione con la strada Mausonia che è di competenza provinciale. Per la ricostruzione della scuola c'erano oltre 2 milioni di euro, poi c'è stato un ulteriore finanziamento di 950 mila euro. Il progetto prevede, oltre alla ricostruzione dove ora si trova un MUSP, la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla scuola. Il Comune è soggetto attuatore e si occuperà anche degli espropri dei terreni, fermo restando che poi tornerà in capo alla provincia. La rotatoria costerà 437 mila euro ma anche la provincia metterà a disposizione del Comune una quota di compartecipazione, come ha spiegato il Presidente Angelo Caruso. Parliamo di un accordo complesso che riguarda una variante urbanistica per rendere coerente ciò che è programmato dal punto di vista infrastrutturale accompagnato ovviamente da quella che è l'azione di finanziamento dell'intervento, cioè parliamo intanto dello svincolo stradale che si declina con una realizzazione di una rotonda nei pressi della scuola, a De Piano, proprio per consentire un accesso sicuro e agevole agli utenti. Dobbiamo anche sottolineare l'importanza quando si realizzano nuove infrastrutture di quello che è il processo di adeguamento del sistema viare. In questo caso Comune e Provincia hanno realizzato senz'altro un'azione coordinata, programmatica, adeguata. Il nostro non è solo un contributo amministrativo perché corrisponderemo al Comune dell'Aquila a 137 mila euro che in aggiunta alla quota che apporrà il Comune consentirà nel completamento dell'intervento viario.